E vince Frida. Frida! Ritirano il premio Lida Aliberto, Content Production Director, e Daria Bernardoni, Chief Content Officer. Buonasera. Ciao, piacere, benvenuta. Piacere, benvenuta. Allora, consegniamo il premio, Thomas. Congratulazione. Chi ringrazia? Ciao a tutti, siamo felicissimi di essere qui questa sera. Frida è un progetto relativamente molto giovane, ma che ha con il Diversity Media Award molte cose in comune. Noi abbiamo puntato tutto anche a livello di branding sul concetto di libertà, che dovrebbe avere come unico limite quello della libertà altrui. Ovviamente questo conduce immediatamente all'inclusività e alla diversity. Non è facile, non pensiamo, come diceva anche Michela Murgia, che le donne siano migliori degli uomini, ma pensiamo che le donne siano un motore di cambiamento sociale molto importante, che possa anche valere come portavoce per tutte le minoranze che oggi sono ancora discriminate. Quindi grazie al Diversity Media Award per tutto quello che fate, siamo molto orgogliose. Grazie a voi, grazie. Sì, siamo dispowerful. Grazie a Thomas Bertani e a Frida, grazie.